Per chi programma di acquistare un'abitazione va sempre peggio. Con il rialzo dei tassi di 50 punti deciso dalla BCE si inasprisce la stangata sui mutui a tasso variabile, che potrebbe portare le rate del finanziamento a salire del 52% in 18 mesi. Quelli a tasso fisso già stipulati restano invariati, ma aumenteranno anche questi ultimi se accesi d'ora in poi. Il nuovo aumento del costo del denaro entrerà in vigore dal 22 marzo. Secondo i primi calcoli di Facile.it, un mutuo variabile standard da 126.000 euro in 25 anni passa da 456 euro a 693, un incremento di 237 euro al mese più 2.844 all'anno. Per far fronte all'aumento delle rate e tutelarsi da ulteriori futuri rincari, molti stanno valutando la possibilità di cambiare banca. Crescono le richieste di rinegoziazione, il 20% del totale delle domande di finanziamento, il doppio rispetto all'anno scorso. Secondo Fabi, mutui mangeranno il 30% degli stipendi. Anche comprare a rate costerà di più per una lavatrice da 750 euro da pagare in 5 anni, si passa da 942 a 1037 euro. Per il vicepremier Matteo Salvini, le decisioni della BCE sono fallimentari per l'Europa, pagano cittadini e imprese. Il timore è che la cura per contrastare l'inflazione non sia finita qui, ma la BCE non ha fatto cenno per ora ad ulteriori aumenti dei tassi nei prossimi mesi.